59esima targa d'oro di Alassio. Il 14 e 15 aprile con 1508 giocatori in gara, Alassio diventa per due giorni la capitale italiana delle bocce. Il maltempo e la pioggia hanno costretto gli organizzatori a far disputare gli incontri presso più campi coperti anche della provincia d'Imperia. Tra questi il bocciodromo comunale di San Lorenzo al Mare, moderna struttura con 8 campi e dotata di servizio bar all'interno. Sul campo di San Lorenzo al Mare hanno giocato 48 quadrette per un totale di 190 giocatori, per lo più provenienti da svariate province italiane, ma anche giocatori di livello internazionale arrivati fin qui da Francia, Russia, Cina, Slovenia, Svizzera e Principato di Monaco. Il livello di gioco si è dimostrato altissimo anche per la presenza di giocatori di categoria DA ed ex campioni del mondo. L'organizzazione ringrazia infinitamente l'associazione bocciofila San Lorenzo per la disponibilità e l'ospitalità dimostrata.